Siamo a Mondo Natura, nello stand della Top Group, assieme a Mauro Bilatto che ci presenterà i suoi camper. Sì, buongiorno a tutti. Top Group è un'azienda che come sapete produce veicoli personalizzati, produciamo tutti quanti i prototipi. I nostri veicoli vengono studiati e progettati in funzione delle richieste e esigenze di ogni singolo cliente. Qui, in questa manifestazione, proponiamo un ufficio mobile, un ufficio mobile montato su meccanica Mercedes Sprinter 418, 4x4. È uno dei primi veicoli prodotti da Mercedes con trazione integrale. Questo è un ufficio mobile, è un veicolo che è stato richiesto da un cliente, così specificatamente. è un mezzo che allo stesso tempo può essere utilizzato anche come un'autocaravan, ma principalmente è un mezzo che è stato studiato per poter lavorare e viaggiare contemporaneamente. Mentre l'autista sta portando il veicolo, il nostro cliente o l'utilizzatore può continuare il suo lavoro nella sua postazione. Il veicolo è stato allestito con delle qualità molto importanti, a partire dal pavimento, dalla mobilia. Sono tutti materiali di tech, non è impelicciato, è tutto tavolato vero, mentre nella parte superiore è tutto quanto realizzato con mobili lacati. Il veicolo è completo di due impianti di condizionamento, sia a motore acceso, sia in viaggio e sia quando si è fermi. Il veicolo è dotato di tutte le attrezzature per poter lavorare e poter avere il massimo del comfort. Su questo veicolo è stato installato anche un'attrezzatura posteriore, dove lo possiamo chiamare portamoto. Questo è un portamoto omologato, secondo le direttive della comunità europea. Questo dispositivo consente di poter non tanto portare una moto, ma quanto di poter portare dei bagagli e gli stessi possono essere chiusi e sicuri. Questo dispositivo si può aprire e qui possiamo caricare le bici, possiamo caricare valigie e quant'altro. volendo, lo stesso, può essere ruotato e può consentire l'apertura delle due porte posteriori del furgone. Questo è il nostro nuovo modello di motorhome, un veicolo completamente in vetroresina, monoscocca, realizzato su meccanica Mercedes Sprinter 518. Tutti i nostri veicoli sono dotati di un telaio in acciaio inox per poter essere resistenti per tutta la vita contro gli agenti atmosferici. In particolare questo veicolo è dotato di sospensioni pneumatiche integrali nella parte posteriore. che consentono di poter abbassare e sollevare totalmente il veicolo in funzione degli ostacoli che possiamo trovare lungo il nostro percorso. Il veicolo è dotato di un sistema di catene da neve automatico. Queste catene si azionano e si installano mentre il veicolo sta viaggiando con la sola pressione di un pulsante. Questo è il nostro motorhome, internamente è stato progettato per una famiglia di 4 persone, anche se in realtà ci sono 5 posti letto e 5 posti viaggio. Abbiamo nella parte anteriore una dinette, comoda e confortevole per il viaggio. Una zona guida protetta sia dal freddo che dal caldo, grazie ai nostri sistemi di riscaldamento e di condizionamento che facciamo direttamente all'interno della nostra azienda. La mobiglia fa parte dello standard del nostro modo di costruire questi veicoli, della nostra qualità. Qui abbiamo una cucina, una cucinadelle. Nella parte posteriore abbiamo due letti a castello che possono, volendo, diventare un divano oppure, come ho detto, due letti a castello, in quanto il letto superiore si abbassa e diventa un divano. La toilette corrisponde al nostro tipico modo di costruire questi veicoli, dotati di riscaldamento centralizzato Alde, dove possiamo garantire un'abitabilità interna di fino a meno 40 gradi. Tutti i nostri modelli portano 300 litri di acqua potabile e 300 litri di acqua di recupero. Nella parte posteriore abbiamo la camera da letto con un matrimoniale.